Il bel tempo e il caldo a foso hanno reso il giorno di festa ideale per passarlo in campagna o al mare. Hanno trascorso così il 25 aprile molti agrigentini. A differenza di Pasqua e Pasquetta, quando il forte vento e la pioggia hanno interessato tutta la Sicilia, costringendo molti a rinunciare alla tipica arrustuta, la giornata di ieri ha letteralmente conquistato le campagne e le spiagge dell'isola. Si presentava così ieri pomeriggio parte della spiaggia agrigentina. I chioschetti sono stati presi d'assalto da numerosissimi avventori. C'è chi ha preferito portare a passeggio il proprio cane, chi farsi una penichella sotto gli alberelli del boschetto o farsi baciare dal sole, e chi, ancora, godere del refrigerio dell'acqua del mare e giocare con palette e secchiello. Non sono mancate poi le tipiche grigliate primaverili. Tra carne arrosto e insalata, il 25 aprile è passato tranquillamente. Un modo come un altro per riunirsi in famiglia e, nelle lunghe tavolate, scambiare chiacchiere e racconti. Non sono poi mancate per cena le pizze. Altro momento di aggregazione per grandi e piccini. Si attende adesso il primo maggio, giorno nel quale si festeggiano i lavoratori. Altra occasione dunque per divertirsi e stare insieme.